... Luce del caletto, preparati a vivere una vita seria, piena di felicità. Sì, D'Arta, via! Sei anche il tuo nome, goditi lo spettacolo. Allora, questo è un video organizzato, per me. Tocco a combattere chi mi gusta. Per me, se chiudi un fratello, ma mi chiedevo dove sei stato in tutto questo tempo? E se, per caso, il tuo ritardo è dovuto alla conoscenza di qualche bella quartigiana, colui che cerca, allora, Govinda, colui che cerca, non ti suggerisce proprio nulla? No, nulla più assurdo. Ma dai, Govinda, illuminati! Cominati, cosa devo fare? Seppur contro la sua volontà, di poter abbandonare i castelli delle quattro stagioni, preparati da lui quando ero ancora un bambino. Così E che non avrei mai più provato quella pace interiore Nell'aria ora c'è, un festeggiamento che, che... Posso non risciare, ti assicuro che non ti accadrà nulla, per cui, parla da te. Se non vi dispiace, non proteggere i propri figli. Non dicevole tutta la verità. I vostri abiti, i vostri monili loro, sono stati lo strumento utilizzato per te. Ci son при Leppure Queste Perdonatemi, Dona Bella e Gentile. Siamo venuti fin qui Per conoscere il puta in terra. Diкуoh Lui èvene arrivato Deoponta E lo devi Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie Non ti preoccupare, vedrai che presto i cattivi pensieri spareranno e presto Cosa mai vedrò di nuovo Staccato a me, sto perdendo il senno Certo amico mio, fa di me quel che vuoi Signora, Zaira smettila, sei sempre pronta a criticare Rappresenti l'irrazionalità